se pensiamo alla cosmologia pensiamo al mondo dove noi ci troviamo su questa roccia qual è i libri di storia ci dicono che è uno sferoide oblato avete letto questo avete sentito questo uno sferoide oblato questo signore qui ha detto no è a forma di pera poi ovviamente abbiamo la nasa che sforna continuamente fotografie perfettamente sferiche della terra e c'è la bibbia che dice no vivete in un globo di neve qual è perché credete in quello che credete quando ho iniziato a guardare dentro questo per la prima volta ho iniziato a parlare con altre persone che venivano da me che facevano queste ricerche e uno di loro mi ha sfidato rob capisco che sei un membro persistente contro la terra globo ci sono e mi disse ti sfido e vado a sfidare nello stesso modo in cui sfidi me dimostra senza usare la nasa o qualsiasi altra agenzia spaziale i governi o i militari di qualsiasi nazione del mondo perché sto dicendo questo la nasa è stato provato che è bugiarda molte molte volte ancora potrei spendere l'intero weekend qui e mostrarvi le menzogne della nasa quanti di voi credono che il nostro governo è onesto al cento per cento e può essere degno di fiducia forza ok quindi non a uno una persona soffre di seria dissonanza cognitiva sì e quanti di voi sanno che i militari rispondono al loro governo ok quindi queste tre fonti le agenzie speciali che solitamente sono organizzate da militari di governo governi militari del mondo sono tutti bugiardi probati perché vi fidate di loro prendetemi in giro una volta due volte è una vergogna voglio dire se continuate a credere ai bugiardi patologici siete idioti e questo è quello che abbiamo fatto tutti e così ho iniziato a cercare tutto questo materiale l'abbiamo visto nei libri di testo nei video nei film e tutte queste cose ce ne sono tante sapete quanto è il budget che ha la nasa sapete quanto denaro ricevono decine di miliardi di dollari all'anno avete visto il film gravity ok questo è stato fatto con circa 100 milioni di dollari prenderlo lasciare e se avete visto il film gravity è molto impressionante l'ho visto su imax un grande schermo wow voglio dire mi sembrava di essere con barbara bullock mentre volavo in giro per lo spazio andavo fuori di testa molto impressionante ho visto il film dove c'era un passeggero che si chiamava no non fa niente ok questo è quello che fanno scherzano fare con 100 milioni di dollari cosa sareste capaci di fare con decine di miliardi di dollari all'anno fin dagli anni 60 e come mai tutti gli astronauti se non molti di loro devono essere massoni quanti sanno che le società segrete sanno tenere i segreti ecco cosa sono le società segrete quindi ci sono organizzazioni e la gente dice è una cospirazione troppo grande non si può troppo grande non lo è ci sono oltre si suppone oltre 7 miliardi di persone sulla terra oggi giusto osservate quante persone presumibilmente sono andate nello spazio sono circa 550 su 7 miliardi molti di loro degli stati uniti e della russia e quanti di voi si fidano dicono sempre la verità giusto i loro governi non mentono mai il mio governo non mente mai e molti astronauti sono militari allenati io sono stato nei militari eravamo esperti a mantenere i segreti giusto sì potete anche non fidarvi di me e sono massoni ok segreti e segreti e segreti in tutti i luoghi circa 500 persone non è così difficile il meccanismo non ha idea di quello che sa fare il re giusto ci sono persone che lavorano per queste agenzie e credono in quello che fanno lavorano delle parti devono fare qualcosa che ha a che fare con lanciare qualcosa a qualche parte sanno solo questo ci sono altre persone davanti ai computer ricevono dati che arrivano a qualche parte e loro interpretano questi dati sono dentro la cospirazione? no fanno solo il loro lavoro ma voglio dirvi qualcosa queste persone hanno iniziato a farsi domande sul loro lavoro le persone dicono abbiamo visto la curvatura guardate ho volato in aereo siete idioti? se andate in aereo vedrete la curvatura ho volato in aereo ho parlato a sacco di volte e avrei potuto dire prima di questa ricerca che anche io avrei visto la curvatura ma non l'ho vista pensi di averla vista ti convinci di averla vista la prossima volta che prendete un aereo prendete la macchina fotografica accertatevi che non abbia l'obiettivo occhio di pesce fate delle fotografie dal finestrino aprite con photoshop tirate delle righe parallele vedrete il piano ho pensato qualcosa questa mattina diciamo che questo è il campo della mia veduta proprio qui e in questo campo di vista affermo di vedere la curvatura della terra giusto? ci siete? questo è il mio campo di veduta questa è la curvatura della terra cosa succede quando faccio questo? se faccio questo affermo ancora di vedere la curvatura della terra ho appena creato il marchio della McDonald's giusto? campo di veduta curvatura della terra campo di veduta curvatura della terra terra curva McDonald's al centro commerciale non avete visto la curvatura e vi voglio sfidare a cercare la curvatura se andate sull'oceano si vede la curvatura ok provalo se vai sulla spiaggia si vedono navi che vanno oltre la curvatura ok acquista la Nikon Coolpix P900 con lo zoom da 83 più lo zoom digitale che lo raddoppia dico solo vai fuori e divertiti vai a vedere le navi che spariscono dietro la curvatura un giorno sono andato in un negozio di elettronica ne avevo già acquistata una perché è sempre difficile comprarla sono sempre senza e quando sono entrato in questo grosso negozio le avevano finite un tizio che si trovava là mi ha chiesto qualcosa non riesco a trovarla l'ho già cercato in un altro negozio ma non trovo questa macchina e così gli ho detto yeah io so perché non la trovi più da nessuna parte mi chiede veramente? gli ho detto sai cos'è la dissonanza cognitiva? no? è quando crediamo che qualcosa sia vero poi qualcuno ti sfida e poi pensi che l'altro è un idiota ah ok ok e questo voleva che continuassi sì? le hanno acquistate tutte in terra pianese cosa? ho detto la dissonanza cognitiva ricordi che ti ho detto? abito vicino a un lago chiamato lago Leswood che ha una veduta di rita per 11 km dove non riesco a vedere le cose dall'altra parte ma con la P900 riesco a vederle ecco perché vendono tutte queste cose e voi gente vi ricordate che ha tonemato il flingso? c'era un effetto sonoro è come questo è il suono che si sente quando un cricettino balza fuori dalla ruota e finisce dentro la testa di qualcuno ehi cos'è questo suono? guardate osservate la nave che si allontana e che sparisce dai nostri occhi a causa della prospettiva effetti simili e si vede come sparire ma se prendi la macchina fotografica vai a zoomare e se andate sul mio canale youtube vedrete molti altri video del genere così voglio dire se fate queste ricerche alla fine cosa succede? penso che arrivate a delle solide conclusioni ho provato questo visto? ma poi entra il titolo sì ma sì ma e qualsiasi cosa sia il sì ma che senso ha? e quando si inizia a mettere sì ma si entra nel gioco infinito del sì ma non ha mai fine e sono arrivato alla conclusione a questa quanto avete dovuto attendere fra due opinioni? mi è successo che ho dovuto fare una scelta e la scelta si basava sul credo certo ho tantissime altre prove delle cose che ho fatto che mi hanno aiutato durante il percorso ma per me è che è vero che Dio dice il vero che ogni uomo è bugiardo ho un credo lo abbiamo stabilito all'inizio di questa presentazione credere è assurdo che succede se credete che Rob è stupido quello che credo è giusto ok? cosa credete? vivete nel McDonald's? mostratemi la curvatura dove è la curvatura? sì va bene va bene Rob perché è importante questa cosa bene ho sentito molte volte questa domanda finisco con 5 ragioni che ho in testa che penso siano importanti la Genesi è il fondamento che tutto quello che crediamo nella Bibbia è vero se la Genesi è sbagliata tutto si sbriciola sotto le fondamenta difettose la Genesi non dice niente no zero nada che la Terra è stata posta in movimento orbita rotazione attorno al Sole infatti il Sole non è stato mostrato se non dopo che la Terra è già stata fatta dove esisteva già la vita la Genesi dice che il Sole la Luna le stelle sono state poste dentro lo stesso firmamento all'interno dove era stata formata la Terra non fuori da questo così abbiamo un sistema racchiuso completamente dove il Sole la Luna le stelle si muovono non la Terra numero 2 se quello che noi vediamo riguardo alla tesi della Terra piana racchiusa è vero allora siamo tutti lì siamo al centro della scena siamo alla principale attrazione non può esserci alcuna discussione se non c'è o c'è un creatore nessuna la sua esistenza non può essere più palesemente ovvia rispetto a questo modello 3 se la tesi della Terra piana racchiusa è vera l'evoluzione vola fuori dalla finestra e la teoria degli antichi alieni che ci hanno inseminato è cancellata a questo proposito credo che divento dolorosamente consapevole dell'enorme inganno ma non sarò più ingannato da questo 4 se la tesi della Terra piana racchiusa è vera allora non crederemo alla NASA o ai governi riguardo a qualsiasi cosa e alla fine saremo forzati a credere totalmente alla parola di Yahweh come sola fonte di verità e bloccheremo il tentativo di piegarlo manipolarlo per adattare il falso paradigma 5 se l'eliocentrismo è falso allora le scritture sono vere se le scritture sono vere e possono essere prese alla lettera perché non possiamo semplicemente prenderle alla lettera quando descrivono che la Terra è fissa non si muove è fondata su pilastri lavora come un cerchio col bordo dentro qualcosa con quattro angoli racchiusi sotto una cupola qualcosa su cui pensare facciamo una piccola pausa e quando ritorneremo facciamo la seconda parte abbiamo sostituito qualcosa parleremo della guerra di semi della bestia e della grande delusione una volta fatto questo vi mostro questa immagine fatta da un pallone meteo a 30.000 metri senza la curvatura ci vediamo tra 10 minuti grazie veramente per aver guardato questo video presentazione se vi va iscrivetevi al canale youtube mettete il mi piace condividetelo con i vostri social preferiti arriveranno molte altre cose pertanto state sintonizzate ci vediamo la prossima volta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti